Ma che ci fa? Ma sidattoli con un Raspberry Pi, un Sonoff Zigbee Mini e un nuovo dispositivo Sonoff? Ah già, ma voi leggete i titoli prima dei video. Ebbene sì, siamo arrivati al giorno in cui inizieremo a parlare di Home Assistant. Attenzione, inizieremo proprio a parlarne, sarà un'infarinata generale per capire cos'è questo mondo. Vi darò degli strumenti per essere indipendenti, per capire come entrarci. Uno strumento di questi sarà un Raspberry. Cos'è un Raspberry? È una specie di microcomputer, una piccolissima piastra madre con integrato diciamo il processore, le memorie e tutto quello che serve per farlo funzionare. Poi anche questo è un dispositivo che vi apre un mondo e in base a come viene diciamo programmato può fare un sacco di cose. Io oggi vi farò vedere come caricargli diciamo un sistema operativo che è poi Home Assistant per utilizzarlo nella nostra rete Zigbee. Rete Zigbee che vedrà come cavia diciamo per fare i test, per far vedere che funziona un comunissimo mini Zigbee, quindi scatolina arancione. Questi è la prima volta che li vedete sul mio canale, sapete che non li adoro particolarmente. Tutto questo per parlare di lui. Lui è il nuovo dongle USB Sonoff, è una chiavetta Zigbee per fare diciamo da hub la vostra rete Zigbee. La particolarità è che è USB e che è fatta per essere gestita nativamente sul sistema Home Assistant collegato a un Raspberry. Ma questa è una partenza perché poi caricando dei firmware diversi è possibile espandere il suo funzionamento anche in altri sistemi. Ma come sempre ci vanno due secondi, iscrivetevi al canale, magari attivate le campanelline e vi fareste un grosso favore. Ora guardiamo un attimino i prodotti nel dettaglio, poi vi faccio vedere come si installa. Andiamo passo passo facendo le cose semplici semplici per fare un'introduzione. Ok, partiamo con il Raspberry. Come vi dicevo è una specie di mini computer. Nella scatolina troviamo solo delle brevi istruzioni, raccomandazioni del caso e niente di più. Allora questo qui si chiama PI3, è il modello diciamo entry level di ingresso di questo sistema. Questo aggeggino qua, vedete molto molto piccolo, questo qua è un quad core con un giga di RAM che va benissimo per fare quello che dobbiamo fare noi, ma è proprio base base base. Se uno ha bisogno di integrarlo in applicazioni più complesse, conviene prendere il PI4. Questo qua è un oggetto che su Amazon si trova a una cinquantina di euro, così da solo sciolto. Perché poi esistono dei kit con anche alimentatore, case, memorie, adattatori, eccetera, che costano sui 100 euro con questa versione. Mentre per il PI4, quello diciamo più potente, andiamo a finire a 150, 160, 180 euro, dipende. Tutto questo comprandolo su Amazon Italia, ma sono dispositivi che trovate tranquillamente online su siti cinesi, a molto molto meno, a patto che si riescano a trovare. Comunque su Amazon c'è, se volete entrare in questo mondo costano cinquantina di euro e lo trovate nei link. Per quello che andremo a fare serve innanzitutto una sorgente di alimentazione per il Raspberry. Va benissimo un caricatore per cellulare con micro USB, attenzione perché deve essere almeno da 2A, altrimenti non ce la fa. Servirà poi una micro SD almeno da 32GB e relativo lettore per andare a scrivere quello che dobbiamo buttargli sopra. Questo è quello che serve per metterlo in funzione e andrà poi messo in rete tramite il cavo di rete. Quindi una volta alimentato, preparato e installato, potrete piazzarlo ad esempio vicino al vostro router, lui sta lì, non mangia, non beve e il vostro sistema funziona. Useremo poi un Sonoff Mini Zigbee che è assolutamente come un Sonoff Mini classico, quindi due neutri, linea in ingresso, linea in uscita, S1 e S2 per il comando esterno. Non c'è nessuna differenza a livello di collegamento e montaggio. Attenzione perché di questo farò poi un video per come modificarlo a contatto pulito. Arriviamo poi al nostro Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus. Mi raccomando apritelo di qua e non di qua. Nella scatola troviamo semplicemente un imballo interno per tenerlo fermo, il foglietto che accompagna i dispositivi Sonoff e la nostra chiavetta diciamo. Dunque questo Dongle nativamente viene fornito con a bordo un firmware ZStack 3.X0 e nativamente funziona con Home Assistant e Zigbee 2 MQTT. Ma anche qua si apre poi un mondo perché è possibile flashare poi altri firmware e espanderne il funzionamento. Questo gigino monta un MCU CC 2652P da 2,4 GHz con amplificatore di potenza integrato. Ha poi un attacco SMA per antenna esterna che possiamo avvitare qua, direzionabile. Attacco appunto USB tipo A normale. Il case in alluminio molto molto semplice, nero, con le lette di raffreddamento. L'alluminio è stato impiegato anche per ridurre le interferenze sui segnali. Con l'antenna in dotazione ha un guadagno di 20 dB. Vendono come accessorio, ma potete comprarlo tranquillamente voi, una prolunga USB da un metro e mezzo, quindi USB maschio e femmina, per prolungarne la portata. Se per caso attaccato a Raspberry è messo in una zona dove ha dei problemi a trasmettere e ricevere, potete spostarlo di un metro e mezzo. Vi lascio ovviamente il link al sito ITAD dove è già in vendita e dove trovate anche maggiori specifiche tecniche e dove trovate anche il layout, diciamo, della piastra con anche i pinout di tutte le piazzole. La nostra microSD da 32 o superiore la inseriamo nel nostro lettore USB. Vi consiglio questo, vi lascio il link, ce l'ho da una vita, lo uso per fare i montaggi video e tutto. È veramente velocissimo. E lo inseriamo nel computer. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare su Google e cercare Home Assistant. Si aprirà direttamente questo sito, la prima opzione, che si chiama www.homeassistant.io. Clicchiamo sopra e si apre il nostro sito dove ci spiega un po' tutto il mondo in modo molto semplice per partire. Su questo sito trovate tutto quello che vi serve per farvi una cultura di questo mondo. Noi andiamo qui sopra su Getting Started per iniziare. Partiamo da Installazione e andiamo a scegliere tra tutte le varie opzioni il nostro Raspberry Pi. Clicchiamo sopra e ci dà qua tutte le istruzioni. Ovviamente in inglese, ma usando Google basta schiacciare col tasto destro, esce il menu, mettete traduci in italiano e abbiamo già una visione un po' più chiara del tutto. Ci ricorda appunto l'hardware necessario, le schede SD e tutto quanto, l'alimentatore. E allora ci spiega appunto appunto cosa dobbiamo fare. E io lo rispiego a voi. Per prima cosa bisogna scaricare questo file che si chiama Balena Itcher. Vi si apre la finestra, voi cliccate Download for Windows in questo caso. Partiamo col Download e un file da 300 MB ci mette un attimino. Perfetto, una volta terminato il download, clicchiamo sul file Balena Itcher Setup e proseguiamo con l'installazione cliccando Esegui. Diamo Accetto e andiamo avanti. Arrivati a questo punto si apre direttamente il programma. Seguendo le istruzioni qui sul sito Home Assistant ci dice dopo averlo avviato di selezionare Flash da URL. Quindi Flash from URL, questo qua è il secondo. Nella finestra qui dove dice Use Image URL, dove dice Enter Valid URL, inserisci un URL, un indirizzo valido. Dobbiamo tornare nella finestra qui dove ci dà le istruzioni per l'installazione e spostarci da Raspberry Pi 4. Vedete i primi due sono Pi 4, poi abbiamo Pi 3 64 bit e Pi 3 32 bit. Noi in questo caso stiamo usando un Pi 3 e dobbiamo scegliere una di queste due. Se avete un Pi 4 scegliete uno di questi due. Sul link da 32 bit raccomanda di mettere il 64, quindi io prendo il 64. In caso di problemi di installazione o di avvio potete provare col 32. Facciamo una selezione del link, quindi teniamo premuto il tasto sinistro e facciamo Copia. Torniamo sul nostro Balena Itcher. Dobbiamo incollare qui l'indirizzo. Probabilmente come succede a me non vi compare il menu a finestra col tasto destro, quindi basta premere CTRL più V su tastiera e vedete che incolla il link. Premendo il tasto OK farà il download dell'immagine da installare. Dopo averlo scaricato dobbiamo scegliere la periferica di destinazione. Avendo già la chiavetta inserita ed essendo l'unica chiavetta me la riconosce in automatico. Nel dubbio o se avete più unità USB inserite potete andare su Change, vi darà tutta la lista e selezionate la vostra. Per essere sicuri che sia la G possiamo ad esempio aprire il gestore del computer e verificare che la nostra chiavetta si chiama proprio G. Selezioniamo la destinazione e possiamo partire con il flash. E lui va avanti. Nella finestra ci darà lo stato di avanzamento fino a dire flash completato. Quando avrà finito di flashare il file darà flash complete. Intanto in questo caso mi si è aperta la finestra di Windows perché non riconosce più la micro USB con un sistema idoneo a scrivere i file per Windows e ci chiede di formattarla. Diciamo assolutamente annulla. Questo è importante. Possiamo chiudere Balena Itcher e seguiamo le istruzioni del sito su come procedere. Dobbiamo mettere la micro SD nel Raspberry, collegare il cavo di rete, alimentarlo e in pochi minuti saremo in grado di raggiungere il dispositivo dal nostro web browser. E adesso facciamo queste procedure insieme. Arrivati a questo punto con Raspberry prendiamo la nostra micro SD che è appena stata preparata. La inseriamo in questo modo sulla parte sotto. Ok. Va solo spinta in fondo. Non ha il classico click clack degli slot micro SD. Inseriamo il nostro dongle USB in una porta. Vi consiglio di tenerla lontana dalla porta di rete, altrimenti potrebbe dare fastidio nell'inserimento. Attacchiamo anche il cavo di rete e possiamo alimentarlo. Lui darà subito un LED rosso e poi ci saranno dei lampeggi del LED verde che indicano lo stato di attività. In questo momento lui sta leggendo la memoria e sta caricando il sistema operativo. Nel mentre alimentiamo il nostro mini Zigbee che come vedete lampeggia di colore verde che è un colore per noi anomalo perché siamo abituati al blu dei dispositivi Wi-Fi. Aspettiamo qualche minuto che vada in linea. Se volete potete anche verificare che stia caricando correttamente l'immagine mettendo un cavo HDMI collegandolo a un proiettore come nel mio caso o a un TV e arrivare fino a questa schermata dove dà la scritta Home Assistant. In questo modo vuol dire che ha letto la micro SD che è stata preparata correttamente e che ha caricato il sistema operativo. Ok, ora che abbiamo il nostro Raspberry con la chiavetta e tutto collegato, dobbiamo accedere dal nostro web browser, quindi dalla pagina internet, a Home Assistant. Come si fa? Si fa in questo modo, come danno le istruzioni sul sito, cliccando su questo link e vedete che si apre immediatamente la pagina di preparazione di Home Assistant. Dice di aspettare perché potrebbe richiedere fino a 20 minuti. Ok, l'installazione è terminata, non ci ha messo 20 minuti, nel mio caso ce ne ha messi 5 o 6. A questo punto ci chiede di creare il nostro account Home Assistant, mettiamo quindi tutti i nostri dati, mettiamo una password abbastanza complessa in modo che non venga violato il nostro account e premiamo Crea un account. Ci dà quindi la possibilità di dare il nome alla nostra casa e rilevarne la posizione. Impostiamo poi il fusurario, l'altitudine, il sistema metrico o imperiale per quanto riguarda l'unità di misura e la valuta. Tutte queste impostazioni comunque sono poi anche modificabili in un secondo momento. Andiamo avanti, ci chiede qua se vogliamo condividere i dati di utilizzo. Andiamo avanti. In questa fase ci rileva già tutti i gateway di casa nostra, come ad esempio il nostro dongle USB. Questo qui lo riconosco perché riconosce il CP2102, che sarebbe il chip che vi avevo elencato a inizio video. E premo Finito. Qui siamo nella schermata panoramica. Ok, arrivati a questo punto come dobbiamo procedere? Dobbiamo andare in Configurazioni, quindi nel menu qua sotto a sinistra Configurazioni, e aggiungere un'integrazione. Qui ci fa già vedere tutte le integrazioni che trova in automatico. Andiamo ad aggiungerne una manualmente. Corriamo in fondo o mettiamo qui la Z, fino ad arrivare a ZigBee Home Automation. Ci fa scegliere quale porta seriale deve usare per il ponte radio ZigBee. Noi dobbiamo scegliere in questo caso il dispositivo CP2102. Facciamo Invia. Perfetto, lui ci dà un messaggio di successo, Configurazione creata. Qui si può andare a scegliere l'area, ma in questo caso non ci interessa. E premiamo Finito. Vedete che in questo caso abbiamo il CP2102 aggiunto come integrazione che viene nominato ZigBee Coordinator. Da qui abbiamo la possibilità di configurarlo e abbiamo aggiunto il controller. Vedete che ora se torniamo in Panoramica ha trovato un dispositivo luce che è il nostro Sonoff ZigBee Mini. Se non fosse stato trovato automaticamente bastava andare qui in Configurazione, gestisci i dispositivi qui, selezionare il nostro ZigBee Coordinator e fare aggiungi dispositivi tramite questo dispositivo. Lui in questo caso fa una ricerca di tutto quello che trova come ZigBee e se vengono trovati nuovi dispositivi vengono visualizzati qua. Fatto questo possiamo tornare in Panoramica. Qui abbiamo il nostro Sonoff ZigBee che possiamo accendere o spegnere. Per quello che riguarda questo dongle, questa chiavetta USB non vi posso dire niente di particolare se non che funziona perfettamente. Avete visto che è bastata inserirla nel Raspberry e la rilevata funziona senza nessun problema. Una nota positiva che ho sicuramente rilevato è la portata perché sarà la tecnologia, sarà l'antenna, non lo so però io quel Mini l'ho preso, l'ho portato nel punto più lontano di casa mia dove lo potevo mettere. Dunque il Raspberry è sottoterra qui nella taverna. Il Mini l'ho portato fuori in giardino dall'altra parte della mia proprietà e prendeva benissimo cosa che i Mini Wi-Fi arrivavano a pelo pelo. Non posso darvi dati più precisi sulla portata e tutto ma secondo me ha una bella potenza. Questa era solo diciamo un'infarinata generale di uno dei metodi che esistono per accedere a questo sistema Home Assistant che tra l'altro è totalmente gratuito ma ce ne sono altri. Ora voi vi chiederete perché e quali sono i vantaggi e o svantaggi. Allora io non sono un amante degli Zigbee questo perché il Mini Zigbee non risponde sempre perfettamente come il Mini Wi-Fi. Io non ho bisogno di andare a modificare la mia rete di domotica Wi-Fi perché funziona benissimo tutto grazie anche al router Fritzbox 7590 perché prima che avevo il router team avevo già qualche problemino soprattutto quando andava via la corrente non mi si riconnettevano mai tutti i dispositivi. Invece adesso ragazzi non è che AVM mi paga per fare il video o me l'ha mandato gratis io il mio 7590 me lo sono comprato e non era forse neanche Black Friday però tanta tanta roba. In questo modo cosa abbiamo creato? Intanto abbiamo creato una rete Zigbee ma non con un hub Wi-Fi ma con un tra virgolette hub che è il nostro Raspberry su rete cablata quindi con tutti i vantaggi che ne derivano di una connessione che sarà sempre perfetta perché viaggiamo via cavo. Poi abbiamo la nostra chiavetta che fa da ponte diciamo radio Wi-Fi per tutti i dispositivi Zigbee che poi possono essere i Sonoff Mini possono essere un sacco di dispositivi io adesso vi ho fatto l'esempio solo con un Mini Zigbee. Il vantaggio in questo caso è che solo con un dispositivo cablato senza nessuna connessione Wi-Fi potremmo gestire tutta una rete Zigbee. Il secondo punto è il discorso Home Assistant dove io non sono entrato per nulla come avete visto vi ho fatto solo vedere come installarlo su un Raspberry come entrare come creare un account e come aggiungere la nostra chiavetta USB Sonoff. Da lì in poi ragazzi se volete cimentarvi in questa cosa vi si aprirà un mondo perché con Home Assistant potete fare tante di quelle integrazioni scenari automatici che io proprio non posso avere il tempo per star dietro una cosa del genere e soprattutto per spiegarvela e per darvi assistenza. Questo almeno ad oggi ma non è da escludere che magari più avanti se mi prende il pallino ci arrivo pure io. Fino a quel giorno vi invito volentieri a visitare il canale I Pensieri dell'Architetto è un nostro amico lui è molto ferrato in questo senso ce ne sono altri adesso mi è venuto in mente lui e ve lo linko volentieri in descrizione. Siamo giunti alla fine di questo video spero sia stato molto utile per voi vi lascio in descrizione il link per comprare anche la chiavetta USB Zigbee direttamente sul sito ITAD costa una decina di dollari costa anche poco e come al solito vi consiglio di seguirmi su Instagram Massidattoli per stare sempre aggiornati su quello che sto testando provando e sui video che devono uscire i link del video e dei prodotti ce li trovate come sempre nel mio canale Telegram il link di Massidattoli e i prodotti in vendita su Amazon nella mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution un bel like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao da Massidattoli ciao 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 Grazie a tutti